Quest'anno ho voluto dedicare la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato alla pastorale degli sfolati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, mettendo al centro della mia riflessione la esperienza di Gesù Bambino, sfolato e profugo a Siemia e i sui genitori. Mi chiamo Ignacio, vengo da Nicaragua e ho avuto con tutta mia famiglia. Non si tratta di numeri ma di persone. Se le incontriamo arriveremo a conoscerle e conoscendole le loro storie riusciremo a comprendere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.